Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Calabria News 24. Per altri impegni istituzionali il presidente della Regione Calabria, Mario Liverio, non è intervenuto nei giorni scorsi ad un incontro organizzato dal Comitato Ambientale Presilano per discutere sulle sorti della discarica di Celico. È stato fissato un nuovo incontro previsto per il 21 giugno prossimo. Dopo il mancato incontro dello scorso 13 giugno con il governatore della Calabria, Mario Liverio, il Comitato Ambientale Presilano si prepara a quello del prossimo 21 sempre dello stesso mese per discutere sempre della discarica di Celico con le stesse aspettative e con le medesime richieste che porterà sul tavolo. Noi non demordiamo e soprattutto non cambiamo idea. Continueremo a stare in assemblea permanente tutte le sere da qui fino al 21 giugno e anzi la nuova idea è di creare delle assemblee che siano anche itineranti. Difatti stasera saremo qui a Piazza del Popolo ma domani saremo a Casole. Una serie di incontri itineranti con l'obiettivo di sensibilizzare anche il resto degli abitanti dei comuni limitrofi. Per incontrare i sindaci e continuare a parlare con loro, dialogare con le associazioni e con tutti i movimenti e le rappresentanze del territorio ma anche per trovare noi nuove strategie per andare avanti uniti e convinti nella nostra battaglia per la chiusura della discarica. Il 21 però vogliamo a questo punto che Oliverio venga qua, che Oliverio venga in Presila, che si presenti davanti a tutti noi, alla popolazione che è anche almeno in parte il suo elettorato di riferimento e che venga da noi a dirci una volta per tutte chiaramente se intende o meno sospendere l'autorizzazione integrata ambientale per poi procedere alla chiusura definitiva di questo impianto che è un vero e proprio paradosso ambientale e un paradosso della legalità. La tappa della carovana della giustizia del partito radicale arriva anche a Catanzaro. Un'altra tappa della carovana della giustizia che il partito radicale insieme all'Unione delle Camere Penali sta facendo in tutta la Calabria. In questo momento è in corso la raccolta delle firme dentro il carcere di Catanzaro, raccolta delle firme per una proposta di legge sulla separazione delle carriere dei magistrati perché il giudice sia terzo fra accusa e difesa. Voglio anche dire che prosegue lo sciopero della fame che sto facendo affinché sia attuata la riforma dell'ordinamento penitenziario. Ieri è stato approvato il disegno di legge delega e noi chiediamo che al più presto siano emanati i decreti delegati e stiamo attenti sia sui tempi sia sui contenuti affinché le carceri italiane tornino ad essere legali insieme alla giustizia. Il Comune di Cosenza sta preparando un nuovo piano di manutenzione per fronteggiare la crisi idrica in città. Per la crisi idrica che attanaglia la città di Cosenza, l'amministrazione comunale ha programmato un piano di manutenzione nell'ambito del quale ha previsto una serie di interventi immediati proprio per fronteggiare la carenza idrica in città. L'ha dichiarato l'assessore alle frazioni e quartieri alla manutenzione della rete idrica Francesco De Cicco durante la riunione della Commissione Consigliare Lavori Pubblici svoltasi a Palazzo De Bruzzi. La ditta incaricata dal Comune affiancata dai tecnici del servizio idrico, ha spiegato ancora l'assessore De Cicco, ha approntato due squadre di intervento alle quali si sono aggiunte ulteriori due squadre della ditta incaricata della Regione Calabria attraverso Sorical. In media, ha sottolineato ancora De Cicco, si eseguono tre riparazioni al giorno che hanno già permesso di ripristinare la normale fornitura in diverse zone della città. Continuando con questo cronoprogramma, nel giro di 15-20 giorni si potrà far fronte alla maggior parte delle rotture idriche attualmente censite. Inoltre, ha sottolineato sempre l'assessore De Cicco, nell'ambito della riunione della Commissione, di poter così tornare a una situazione di normalità compatibilmente con la carenza idrica presente alle fonti a causa della siccità che contraddistingue questo particolare periodo dell'anno. A tal proposito, De Cicco ha inoltre ricordato di aver diffuso nei giorni scorsi un comunicato stampa con il quale si invita la cittadinanza a non utilizzare indiscriminatamente l'acqua potabile per l'irrigazione di orti e giardini. In questa direzione sono in corso controlli serrati da parte della Polizia Municipale. Inoltre, con la collaborazione della Regione Calabria, si sta procedendo alla progettazione e quindi alla realizzazione di un nuovo ulteriore tratto di rete idrica cittadina, come già fatto negli anni scorsi, per la parte alta della città e per la zona di via Rivocati. La Calabria risulta essere la prima regione italiana per numero di agriturismi in spiaggia. Il mare resta sempre una delle mete preferite per i turisti italiani e anche stranieri ed in Calabria i chilometri di costa sono più di 700. Coniugare poi la campagna, la buona cucina, i prodotti tipici con il mare potrebbe essere un connubio interessante. E la Calabria è proprio la regione italiana che presenta la maggiore concentrazione di agriturismi su spiagge private e con l'11,54% e anche la terza, sempre in Italia, con strutture per l'ospitalità in campagna che si trovano vicino al mare. Dati questi che vengono fuori da uno studio fornito da agriturismo.it. Dunque sono diverse le aziende che, trovandosi geograficamente vicino al mare, hanno acquisito tratti di costa da utilizzare questa estate. Si tratta quindi di una combinazione interessante e che potrebbe riscuotere successo proprio in questi mesi. La bontà del gelato artigianale approderà in televisione con un nuovo talent. Villapiana, in provincia di Cosenza, ha ospitato una tappa dei casting in programma. È approdato a Villapiana il casting per il talent show sul gelato artigianale italiano. Protagonista è stata la gelateria Barbarossa di Villapiana Lido, che ha ospitato il casting con lo scopo di far emergere quelle capacità organizzative e produttive nel campo della gelateria e non di meno quelle intuitive per proporre nuovi prodotti di qualità e gusti insoliti. Oggi è una giornata speciale. Sta per accadere il primo casting calabrese, in questo caso è la selezione per il gelato tour. Il gelato tour cos'è? È un nuovo format, per intenderci l'equivalente del Masterchef, gelato. Oggi cosa faremo? Oggi andremo a fare le prime selezioni dei ragazzi che hanno espresso la loro volontà di far parte di questo progetto. Il format nasce quest'anno. Il gelato tour è un progetto nato nel 2012. Io dal 2012 giro tutta Italia, ogni provincia, alla ricerca dei bravi artigiani del gelato, quindi coloro che usano tanta materia prima con tanta competenza. Abbiamo deciso di fare questo viaggio per valorizzare un prodotto tipico italiano che purtroppo ha poca visibilità per la grande qualità che ci mettono gli artigiani. È prevista per fine giugno a Cosenza l'estate di eventi sul lungo fiume Boulevard. A Cosenza la macchina comunale è al lavoro per l'organizzazione dell'edizione 2017 del lungo fiume Boulevard che da fine giugno accompagnerà per tutta l'estate i cosentini. Mentre si lavora al cartellone degli spettacoli dell'intrattenimento, il settore delle attività produttive, su indicazione dell'assessore delegato Loredana Pastore, prepara tutto ciò che attiene all'accoglienza e alla ristorazione e organizza anche le novità di questa edizione. Tutta un'area del parco fulviale, in particolare quella più prossima ai box art, vuole infatti diventare uno spazio in cui a prevalere è proprio la creatività. L'idea dell'amministrazione comunale quest'anno è quella di concentrarsi sulle gallerie d'arte, esposizioni di artigianato nelle sue diverse sfaccettature, oggetti riciclati e abiti vintage. Dopo le notizie rientriamo in studio. Io sono in compagnia di Paolo Palma, portavoce delle associazioni Insieme per i centri storici. Prima che tutto crolli, benvenuto dottor Palma. Bentrovati, grazie. Allora, questo pool di associazioni è a favore dei centri storici, ma in realtà noi apriamo con, diciamo, voi non siete molto a favore della metropolitana leggera e dei giorni scorsi, notizie appunto che c'è stata questa striga. Abbiamo preso posizione, anche come prima che tutto crovi. Ecco, cosa ripeto? Noi crediamo dall'esigenza di salvare il centro storico di Cosenza. Il vero tesoro di Cosenza non è Alarico, è il tesoro che è il centro storico che cade a pezzi. E noi crediamo, tra le altre cose, che questa metro, cosiddetta metro tranvia, metro leggera, non porta nessun beneficio al centro storico di Cosenza. 40 se non addirittura 50 minuti, non si capisce ancora bene, dall'Unical a Piazza Matteotti, rendono quest'opera, uno degli aggettivi che uso io, è inutile. Gli altri sono dannosa, antieconomica e obsoleta. Però la sigla è stata fatta e per cui questa metropolitana sarà realizzata. Beh, è stata fatta, ma almeno ci vorrebbe un referendum. Bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di coinvolgere i cittadini di Cosenza e di Rende. Tanto più che i due sindaci di Cosenza e di Rende fino a pochi mesi fa erano contrari. Con parole anche di fuoco. Addirittura il sindaco Chiuto ha vinto le elezioni con le firme contro la metro leggera. Ora dicono che hanno cambiato il progetto. Ora qualcosa è cambiata, quindi... È cambiata, ma Cosenza non ha bisogno di ovovie, di musei di Alarico. Questo non è solo l'interesse del centro storico. Ecco, di cosa ha bisogno il centro storico? Le vostre associazioni per che cosa si battono? Beh, noi ci battiamo perché nel centro storico si è riportata la vita, la vita reale. Quindi funzioni, uffici, botteghe, attività commerciali, come era una volta. Naturalmente ristrutturandolo profondamente. Noi abbiamo letto, di recente abbiamo letto che il sindaco di Cosenza, pure lui, dice di volerci portare la vita. Ma per noi la vita non è portarci le bancarelle, fare le feste o fare le sfilate al castello. È portarci la vita reale. Ci siamo anche collegati con altre associazioni. Noi che siamo un pool di associazioni. Ci siamo collegati con Civica Amica, ci siamo collegati col Comitato Piazza Piccola. E proprio nei giorni scorsi abbiamo dato vita ad un osservatorio permanente su Cosenza Vecchia. Cioè noi vogliamo avere i riflettori puntati sulla città vecchia 24 ore su 24. E c'è l'idea da parte vostra di proporre un disegno di legge nei prossimi giorni, è così? No, il disegno di legge è un'altra cosa. Noi siamo nati, perché siamo associazioni cosentine, siamo nati per questo grande amore che abbiamo per il centro storico di Cosenza. Poi però abbiamo fatto un salto di qualità, se vogliamo, nel senso che ci siamo dedicati alla stesura di un progetto di legge di iniziativa popolare regionale per la rivitalizzazione e la rinascita dei centri storici calabresi. Questo progetto di legge a finora ha avuto l'adesione con delibere dei consigli comunali di ben 47 comuni e crediamo di poter arrivare a 60. Nei prossimi giorni andremo a presentarlo ufficialmente al Consiglio regionale al Reggio Calabria. E allora poi ne riparleremo. E poi ne riparleremo, perché è una cosa importante. Riguarda anche Cosenza, perché i benefici saranno anche... Certo, ma riguarda tutti i comuni calabresi. Ma riguarda tutta la Calabria, ovviamente. Perché i centri storici calabresi, molti, cadono a pezzi. Se io giro la Toscana, l'Umbria, l'Emilia Romagna, trovo dei centri storici meravigliosi. Perché noi, no? È vero. In bocca al lupo, dottor Palma, e buon lavoro. Grazie, grazie ancora. E noi ci vediamo più tardi. Grazie.